Ciao a tutti, sono Marco, lavoro presso la palestra di Atena Fitness di Camparada e un consiglio che oggi voglio dare ai clienti che praticano indoor hiking è l'utilizzo del cardiofrequenzimetro. Che cos'è il cardiofrequenzimetro? È uno strumento che ti permette di tenere il tuo cuore sempre monitorato in ogni fase di lavoro. Quindi tante volte è uno strumento che può dar fastidio, in realtà invece è un compagno di viaggio che può semplicemente darti una mano a sostenere meglio lo sforzo che tu fai. Quindi anziché tenendo la casa nel comodino ti consiglio di portarlo qui, lo vedi con il tuo istruttore e ti posso garantire che è uno strumento che riterai sempre opportuno da indossare durante la tua ride. Con questo è tutto, vi saluto, hashtag Atena Style. Ciao!